Buona giornata, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Alcune variazioni per quanto riguarda la viabilità da oggi di Vieti di Sosta lungo Viale Galileo, da Piazzale Michelangelo fino a Piazzale Galileo, lungo tutto Viale Poggi, in Piazza Poggi e in Ungarno Seristori fino al Ponte Alle Grazie e nella zona sud dei Vieti di Sosta in via Visconti Venosta tra via Bonomi e via Vittorio Emanuele Orlando e nel parcheggio della stazione di Rovezzano in via Chimera. Bene, non ci sono altri aggiornamenti al momento, muoversi in Toscana e in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a più tardi.